Con orgoglio, soddisfazione e un pizzico di sorpresa abbiamo appreso oggi che la rivista di divulgazione scientifica Focus ha pubblicato un articolo molto completo su diamanti e sul mondo dei diamanti in generale all'interno del quale c'è un paragrafo che parla della nostra tecnologia di Anselif che è il frutto di sette anni di lavoro tra la mia azienda e il professore Antonio Caramelli attraverso questo lavoro è stato costruito uno strumento che riesce a riconoscere univocamente i diamanti e un algoritmo attraverso il quale queste acquisizioni vengono messe in un database e in blockchain è la prima volta in cui si riesce a raggiungere un risultato tecnico, tecnologico e scientifico di questa portata e siamo molto soddisfatti di aver ottenuto un riconoscimento dalla più importante rivista di divulgazione scientifica italiana Grazie Grazie Grazie